Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale io sono Xibal che l'altra volta stupidamente mi sono dimenticato di ricordarvelo e vabbè l'avete retto dal nome del canale oggi siamo tornati in questo nuovo video su FIFA 15 il nuovo nuovo video, un altro video su FIFA 15 e beh che dire, volevo solo farlo un po' più difficile diciamo facendo una cosa, mettendo una cosa, possiamo dire, più difficile perché non vedrò un cazzo magari e ve la presento, eccovela eccomi, sono il cavallo, siete pronti? vai con la partita così, non vedrò un cazzo ma fa niente voi sentirete qualcosa? non lo so e vai con la partita, ci vediamo appena trovo qualcosa bene ragazzi, ho trovato la partita credo perché non vedo un cazzo e siamo pronti a giocare che ragazzi, sembra forte da quello che vedo vediamo la sua squadra, la sua squadra bene, non vedo un cazzo in poche parole ma mi sembra abbastanza forte, vediamo come va questa partita sì bene, inizia lui, non vedo un cazzo mamma mia già laiga benissimo mamma mia, non vedo un cazzo è bruttissimo ragazzi già laiga poi quadrato, mi sembra quadrato quadrato, 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 quadrato mamma mia, mamma mia, quadrato quadrato, non vedo un cazzo mamma mia, mamma mia no, non vedo un cazzo, no, non vedo un cazzo, sto guardando dal naso non vedo un cazzo dirlo mamma mia prova rubare il pallone aiuto aiuto mamma mia, mette fuori così, grandissimo a punizione pure che trovo così, vedo però è in roda per fare quella punizione è un passaggio mamma mia palla a lui il barbo il barbo il barbo la palla a lui non vedo un cazzo ragazzi vi dico che si muore dal caldo qua sotto giumbia mamma mia, giumbia mamma mia mamma mia sembra pure che l'aghi mi sembra ripeto che vedo una cosa poi non vedo più cazzo si vede niente fanculo no ah mia sto vedendo da due buchi nel dal oh ah mia Vidal mamma mia Vidal no vedo 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 il cazzo ah mamma mia non dai ragazzi devo segnare almeno un gol almeno un gol almeno un gol almeno un oh oh no no dai non vedo cazzo cazzo ragazzi sto morendo dal caldo dal caldo e tu dunbia tu madonna ma eh and vai no apre sulla fascia non vedo un cazzo dove cazzo le chiamo dove cazzo gol oh oh no eh ragazzi dovrei anticipare le sue mozze eccolo quadrato quadrato mamma mia vai quadrato vai quadrato guarda pop 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 punti quadrato 2 sape lo stai per te centrali mando mi Mettretutto mi sembra di aver visto che lui mi trova difensiva Mi sembra di vedere che lui mi trova difensiva Non ho un pagliato No, non vedo un cazzo Vidal E mi sa che è finita la partita, ragazzi Invece qui Primo tempo 1-0 I miei cavalli sono salti Vai zio, premi figa Aspettate che mi piccolo mentre aspetto Vada piccolo Pronti Vai ragazzi Vite il secondo tempo Comincia ora la seconda frazione di gioco I miei barbo I barbo I barbo I barbo Vedi un cazzo Lui non lo sa però peccato I barbo I barbo Ragazzi Ragazzi Questi cavalli Quinti Potre un cavallo Vai Minchia Si può perdere tempo Goal No, sarà offside Mamma mia ragazzi Si è arreso Mi si è disconnesso il controllo Approfittiamone Approfittiamone Poi giocco Mamma mia Castigliamolo anche se è fermo Mi sembra Dumbia Dumbia Mi sembra Dumbia Sta giocando adesso Sto stroggio Sibal non vede Sibal non vede Ah ma mia la rovesciata di fuori GOOOOOO 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 Sibal non vede Sibal non vede Sibal non vede Sibal non vede Grandi ragazzi Mamma mia ragazzi E' ancora fermo adesso Perché il cavallo Lo sta castigando Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia è morto così Non i pisti a pallo Dovremmo castigarlo Anche se è fermo Io odio sto gioco Perché E' bruttissimo sto gioco Perché se uno è fermo E' più difficile rubare il pallo Dimmi te Rubare il pallo Niente i bagaggi Mamma mia Aspettate che mi Sistema la cremiera No ragazzi Non posso sopravvivere 30 minuti del gioco Sotto qui Sto facendo la sauna La sauna Ma è piaciuto La cosa dove l'ho mancata Per lui però Che la ripasso a lui Facciamo i gol Facciamo i gol Allora Dibettiamoci Situazione abbastanza evidente di offside Non ti scherzo fuori il gioco Ti scherzo Qua ragazzi Non è che non vedo Non vedo Vedo da qui Io Ma se avete presente Due buchi così Tanti mi userei così 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 Non è facile vedere Se facessi così Ti vedo bellissimo Così No Infatti Buchi dal naso Ti cerco Traversami Mi cerco Mi provate Allora io la palla Proviamo a mettere da fuori Mamma mia Traversa Traversa Eccolo Pirlo Ah no L'ho provato Ancora 20 minuti quasi Ragazzi Finalmente Sarò libero Da questa agonia Queste sono Per fare Il video Di Mita Sono proprio Scemo Maroni Sicuro L'intervento del portiere Tiratelo Tu vai No Non riesce a fermare Troppo più forte di lui In questa circostanza Dunque Ditemi voi ragazzi Un cavallo Riesce a fare Mettere di giocare Una persona Su FIFA Che non sto vedendo in caso Che dite a mica la gente Come a me Sei proprio scarso Fica Cambia il gioco Zio Guardalo E' gol E' gol E' gol E' gol E' barbo E' l'inizio dopo Perché non vedo un cazzo Che ho raggiunto E' stato un taglio tipo 2 Tra Deo Era il vero contenuto Ma è pieno Però era un bel gol Credo Ma non lo so Figa giù Beh Figa Kinsen Mami E' barbo Un applauso Bra Che proprio forte Matteo Gumbià Gumbià Cascada ferma Gumbià E' capace di sbagliare Il pallonetto Vi ho bloccato tutto Connessione controversare Si interrotta E vai ragazzi E' un altro che quitta I cavalli fanno quittare le persone Ebbe che dire ragazzi Qui da così vale tutto No Aspetta un attimo Così non va bene Oh Così va meglio Ebbe che dire ragazzi E parte La sudata Non respiravo più Ok Stiamo vincendo E ragazzi Qua è tutto Al prossimo video Ci vedremo con un altro episodio Vi raccomando Commentate Iscrivetevi Se non avete ancora fatto Mettete un bel mi piace E qui da qui ci vale tutto E dal Cavallo È tutto Ma è un saluto Ciao Non mi era la mia voce Eh vabbè Cosa dici Eh È bello Ciao cavallino Ok Ciao ragazzi Al prossimo video Ciao 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 Ciao